Pubblicato dall'ASMEL, l'associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, il bando di garra per l'affidamento del project financing della pubblica illuminazione per il comune di Roseto. L'importo dei lavori di circa 2 milioni e mezzo di euro che serviranno a realizzare interventi su Roseto e frazioni. Il project pervede la sostituzione di 400 pali e la manutenzione di ulteriori 200 pali. Inoltre verranno messi a norma 111 quadri elettrici su 171 e verrà eseguito il rifacimento dei 6 km di linee elettriche, oltre a un chilometro della linea aerea. Lo aspettavamo già da alcuni mesi, dopo che era stato fermo il bando per circa un anno alla sua della stazione appaltante della provincia di Termo, abbiamo aderito all'ASMEL per accelerare i tempi di pubblicazione e quindi di realizzazione di questo project che consente di intervenire su tutta la pubblica illuminazione del comune di Roseto. Quindi interverremo non solo su tutti i punti luce, circa 6 mila, ma andremo ad adeguare e mettere a norma i quadri elettrici, a rifare delle linee sia aeree che interrate, oltre a sostituire i pali ammalorati e a manutentare quelli che sono più rovinati. Quindi un intervento radicale che permetterà di porre fine ad una situazione che viene da lontano per la mancanza di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione e che consentirà di adeguare con le nuove tecnologie a LED tutta l'impianto di pubblica illuminazione. Un progetto che ha una durata di 10 anni, così come è stato proposto dalla ditta, ci auguriamo che siano in tante le realtà imprenditoriali a partecipare a questo bando in maniera tale da avere un'ulteriore possibilità per la nostra città. Naturalmente questo progetto lo abbiamo voluto partendo da quello che noi attualmente spendiamo per la pubblica illuminazione, quindi mettendo a base di gara quello che attualmente spendiamo. Naturalmente questo costo andrà a ribasso e quindi oltre a risparmiare sui costi dell'energia elettrica andremo ad avere un impianto di pubblica illuminazione a norme ed adeguato alle esigenze della nostra collettività. Lavori che dovrebbero iniziare? Il bando è stato pubblicato, quindi 60 giorni di pubblicazione e noi ci auguriamo di partire subito dopo l'estate anche perché il cronoprogramma presentato dalla ditta prevede tempi di circa nove mesi per la realizzazione di tutto l'intervento. Dipenderà da chi vincerà la gara, dal tipo di intervento e di migliorie proposte, però noi contiamo che per la prossima stagione estiva Roseto si possa presentare con un nuovo look.